Quella scattata da Goletta Verde lungo le coste campane è una fotografia a tinte fosche. Su 31 punti monitorati tra il 25 e il 29 giugno dai tecnici di Legambiente, ben 20 presentavano cariche batteriche elevate. Nel Mirino ci sono sempre canali, foci di fiumi e torrenti che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati e ci sono anche record assoluti con situazioni che nonostante esposti delle associazioni e controlli delle forze dell'ordine mostrano un inquinamento ormai cronico. È il caso ad esempio della foce del fiume Irno a Salerno, del Savone a Mondragone, del fiume Sarno tra Castellammare e Torre Annunziata, della foce dei Regi Lagna a Castelvolturno, della foce del canale di Licola a Pozzuoli e della foce del torrente Asa a Ponte Gagnano, giudicati fortemente inquinati per il nono anno consecutivo. E questa la sintesi dei risultati del monitoraggio delle acque in Campania realizzato dall'equip tecnica lungo le coste campani, presentati da Legambiente e da Goletta Verde questa mattina presso il circolo Canottieri-Irno a Salerno. La tutela ambientale si pone come obiettivo primario di tutte le amministrazioni interessate. Sono contento, sono privilegiato di essere qui stamattina insieme a Legambienti che rappresenta l'associazionismo e il volontariato per eccellenza che ha a cuore la tutela dell'ambiente ma soprattutto della risorsa mare. Risorsa mare che come sappiamo se idoneamente, compatibilmente, sfruttata può solo creare economia, ricchezza, sviluppo, crescita di un paese che vive sul mare, dovrebbe vivere sul mare e da tutto ciò che gli deriva. La nostra campagna serve a accendere i riflettori su una problematica purtroppo annosa. Quest'anno noi cerchiamo di introdurre qualche elemento ulteriore per poter rilanciare su questa importante battaglia. Che cosa diciamo? Diciamo che la partita adesso è una partita che sta nelle mani degli enti locali, degli amministratori locali. Sono loro che hanno la piena titolarità attraverso l'ente idrico campano nel far sì che si organizzino i sistemi depurativi. Che cosa significa? Pianificazione, conoscenza del territorio, della consistenza e funzionalità delle opere e anche colmare quelle che sono le esigenze di nuove realizzazioni. Dobbiamo qui chiarire un aspetto importante. Non si tratta solo di realizzare e giustapporre interventi singoli, ma di far funzionare un sistema che è cosa molto diversa e ne può essere conseguito assolutamente attraverso la semplice realizzazione di opere. Noi auspichiamo vivamente che l'ente idrico campano e gli amministratori locali campani si diano una decisa regolata, cioè si diano da fare affinché funzioni questo organismo e nella loro titolarità e sono nelle loro mani le responsabilità per far sì che la depurazione in campania fino a te inizi a funzionare.